Buonasera e bentrovati a Montemurlo in Forma, la nostra rubrica settimanale dedicata al comune di Montemurlo. Il Centro Giovani porta adesso il nome di David Sassoli, è stato infatti intitolato al Presidente del Parlamento Europeo, scomparso lo scorso 11 gennaio, lo spazio polivalente di Piazza Don Milani. Il Centro Giovani di Montemurlo da oggi è dedicato a David Sassoli. La struttura di Piazza Don Milani è stata infatti intitolata al Presidente del Parlamento Europeo e giornalista, scomparso lo scorso 11 gennaio. Ricordarlo significa investire sul futuro, investire soprattutto su un'Europa come voleva lui, veramente fatta di popoli uniti, senza più barriere, divisioni e separazioni. A Simone Calamai il grazie di tutta la Toscana per quello che è stato il completamento, quindi l'intitolazione a David Sassoli di questo Centro Giovani che dà il messaggio di come l'importanza dell'Europa deve essere sottolineata soprattutto verso i giovani, verso coloro che vivranno il futuro e lo vivranno all'insegna di una Toscana, di un'Italia che sempre più sono parte d'Europa e le vicende dell'Ucraina ci insegnano quanto sia importante l'identità europea in un mondo fatto di grandi blocchi che siano gli Stati Uniti come la Russia, come l'India, come la Cina. Ecco che noi sempre più dobbiamo saper essere Europa. Stretto il legame tra Sassoli e la provincia di Prato, un rapporto di parentela e amicizia. A Prato infatti è nata la madre e tuttora risiede parte della famiglia, come la zia presente all'intitolazione. Molta commozione guardi, molta commozione, non me lo sarei mai immaginato di arrivare a questi momenti qui, era una persona unica, unica che Davide che posso dire sia ottenuta battesimo. Non è che con incarichi che aveva ci si vedesse, però era sempre vicino, vicino. È una perdita proprio grande, incolmabile. Davide, oltre ad essere un politico di razza, un presidente del Parlamento europeo di valore, era un amico della nostra comunità. Per questo per noi è il minimo intitolare il nostro centro giovane a Davide Sassoli. Oggi incontriamo anche Mario De Pizzo, giornalista Rai, che ci parlerà di quello che sta avvenendo anche oggi in Europa, la guerra. Ne parleremo con lui anche affrontando il libro che ha fatto, che parla di America, parla della storia della geopolitica nel mondo. Per questo un'occasione, nel ricordo di una grande persona, anche di fare un approfondimento sull'attualità. La giornata è stata anche l'occasione per parlare e riflettere sull'attuale situazione politica internazionale e sui rapporti tra Europa e Stati Uniti. Presente infatti, come anticipato, anche il giornalista del Tg1, Mario De Pizzo, che segue l'attività del Presidente del Consiglio e che ha presentato per l'occasione il suo libro L'America per noi. Ha moderato l'incontro il direttore di TV Prato Gianni Rossi. Davide era reputato un nemico da parte di Vladimir Putin perché affermava semplicemente i valori della nostra civiltà, democrazia, libertà e ritenesse che ci fosse un portato comune per ciascun uomo, per ciascuna donna sulla pace della terra. Godere di libertà, godere di diritti. Era stato minacciato da Putin. Non aveva paura. Le scene della Settimana Santa rappresentate in uno speciale presepe di Pasqua. È visitabile in questi giorni alla Pieve della Rocca, insieme ad una mostra dedicata a Montemurlo e le sue croci. A Montemurlo si celebra la Pasqua con il primo presepe pasquale. Nell'oratorio della Pieve di San Giovanni De Collato, i volontari dell'Associazione Borgo della Rocca hanno infatti allestito una originale rappresentazione della Settimana Santa, riprodotte le scene della Passione di Gesù, dalla Domenica delle Palme alla Resurrezione. Un'idea sicuramente innovativa perché raccontare quella che è la passione attraverso queste immagini, questo lavoro artigianale così bello, insomma è qualcosa veramente di particolare che penso ci siano pochi esempi a livello nazionale di un presepe pasquale di questo tipo e quindi fa piacere. Ed è anche un'occasione per riflettere su quelle che sono le nostre tradizioni e su quelli che sono i valori della comunità perché ovviamente in un momento difficile anche a livello internazionale come questo, quello che significa ovviamente guardare allo stare insieme alla comunità, alla capacità del dialogo, dell'ascolto, sono tutti valori che anche quello che rappresentano queste mostre riescano a trasmettere. L'idea è nata diciamo così non da un progetto particolare ma proprio una cosa che è venuta quasi per caso, proprio considerando quelle appunto che è il momento che stiamo vivendo appunto rispetto alla Pasqua ma anche rispetto a tutte le questioni generali che vediamo tutti in televisione ogni giorno, appunto di poter significare magari questo momento con appunto una speranza, con qualcosa appunto che vada incontro a quel desiderio di bene e di bello che c'è in ogni uomo ma che ora tante volte è messa alla prova appunto dalla situazione e dalle circostanze che ci sono. La rappresentazione è stata dedicata alla memoria di Suor Anna, insegnante della scuola paritaria del Sacro Cuore recentemente scomparsa. Oltre a presepe pasquale, la pieve in questi giorni ospita anche la mostra dedicata a Montemurlo e le sue croci. Un omaggio alla devozione montemurlese attraverso una rappresentazione degli strumenti della passione ma anche del lavoro agricolo che si trovano sulle croci della passione disseminate sul territorio montemurlese. Simbolo della vittoria di Cristo sulla morte sono stati riprodotti in legno per l'occasione dallo scultore Sauro Calamai. Partendo da una delle croci con le armi Cristi o croci della passione che sono presenti nel nostro territorio, ce ne sono quattro tra l'altro, noi abbiamo riprodotto tutti i simboli della passione. Per noi è fondamentale il valore dell'associazione, in questo caso del Borgo della Rocca perché è quell'associazione che cerca di dare valore a questo luogo bellissimo che è il Borgo della Rocca. Ci fa gioco anche perché oggi noi ripartiamo dopo la pandemia per far conoscere un territorio importante e quest'occasione ci danno la possibilità di conoscere sia la vita spirituale di questo posto ma anche le sue bellezze perché da questo borgo passa il Cammino di Saiacopo e grazie anche al lavoro che fa il Borgo della Rocca è un'occasione per far conoscere un territorio che ha tanto da dire. Esteso a tutto il 2022 il suolo pubblico gratuito per bar, ristoranti e locali montemurlesi. Lo ha deciso l'amministrazione comunale per aiutare l'attività nella ripresa post pandemia. Per tutto il 2022 i bar e i ristoranti montemurlesi potranno posizionare gratuitamente tavoli, sedie e dehors negli spazi pubblici come strade e piazze adiacenti al proprio locale. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di prorogare fino a fine anno la gratuità per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per tutti gli esercizi di somministrazione del territorio. Il comune di Montemurlo in continuità anche con le azioni intraprese nel corso di questi due anni ha deciso di continuare a sostenere le imprese del proprio territorio. In particolar modo in questo caso le attività di somministrazione e di ristorazione garantendo la possibilità di estendere la propria superficie di somministrazione occupando gratuitamente il suolo pubblico fino al 31 dicembre 2022. È una misura che chiaramente non è più prevista con il termine dello stato di emergenza ma che il comune di Montemurlo ha voluto continuare a garantire perché riteniamo che il sostegno alle attività del territorio sia fondamentale da parte dell'amministrazione comunale e quindi abbiamo deciso di fare questa azione che ci è possibile nelle more della normativa e di garantire l'esenzione del pagamento del canone. Il provvedimento era stato introdotto dal governo in seguito all'emergenza Covid per aiutare le imprese in difficoltà ed è terminato il 31 marzo con la fine dello stato di emergenza. Il comune di Montemurlo ha tuttavia deciso di continuare a dare all'attività di somministrazione questa possibilità che si affianca ad una procedura semplificata per richiedere l'occupazione di suolo pubblico. Si garantisce anche una procedura per richiedere l'occupazione del suolo pubblico semplificata che prevede di non passare attraverso la nostra società Sori ma di gestire la pratica direttamente al comune di Montemurlo presso l'usfficio SUAP che rilascerà nulla osta per l'occupazione in cinque giorni lavorativi. In sede di domanda dovranno essere indicate le dimensioni delle strutture che si vogliono installare, l'area che si intende occupare e la durata. È possibile occupare uno spazio anche sul lato opposto della strada rispetto all'ubicazione del proprio locale. La possibilità di estendere la superficie è un'opportunità di cui hanno soffruito numerose attività sia nel corso del 2021 e ci aspettiamo che sia un'opportunità che venga colta anche nell'anno 2022. L'amministrazione decise proprio di mettere a disposizione i propri spazi pubblici affinché le attività di somministrazione possano sfruttare le nostre piazze, i nostri spazi pedonali laddove sono presenti, laddove è possibile proprio perché vogliamo che le attività di somministrazione possano lavorare, ma soprattutto i cittadini e tutte le persone che frequentano Montemurlo godersi il nostro territorio e la nostra città. E per questo appuntamento è tutto. Montemurlo in forma torna venerdì prossimo, sempre alle 20.05, sempre su TV Prato. Grazie per averci seguito e a voi tutti una buona serata. Grazie per aver guardato il video.